Ciao, io sono Giorgio95 e oggi ci troviamo su Rolling Sky per un nuovo episodio ovviamente e in questo episodio faremo più veloce che sarà un livello che diciamo va a gradualità e cosa significa? Nello scorso episodio abbiamo provato inizialmente questo livello e diceva che era la difficoltà facile che andava piano, lento, era lentissimo praticamente completandola facile che poi io mi sono allenato off camera apposta per voi per portarvi un gameplay migliore insomma da potervi completare il livello anche se comunque non è che mi sono allenato talmente tanto da essere un pro e fare questo livello a primo colpo perché non voglio fare una cosa così darebbe solo la prova che io sono bravo a fare il livello ma non dà l'esperienza del giocatore insomma e quindi ho detto vabbè me le non può vedo per arrivare in fondo e basta e questo diciamo non l'ho fatto adesso l'ho fatto qualche giorno fa in modo da non essere proprio subito preparato che adesso può darsi che io perdo delle vite però è normale insomma non starò qua a farvi vedere semplicemente io che completo i livelli voglio completarveli e farvi capire che non è facile perché se io le completo subito dopo vi dimostro che sono una cavolata a questi livelli invece no vabbè comunque questo livello è fatto puoi farlo in difficoltà facile, normale e difficile ma ti basta completarlo in normale e il livello se l'hai 100% facile solo 65% è difficile e va veramente troppo veloce poi se riusciamo a completarlo abbastanza presto vi farò vedere com'è la difficile vedrò un leggero assaggio della difficoltà difficile va veramente veloce quindi ve lo faccelo vedere anche perché perderei troppe vite e poi sarebbe una cosa ripetitiva va bene ok mi raccomando se questo video vi piace lasciate un like stiamo raggiuntendo il tanto agognato traguardo dei 1000 iscritti quindi speriamo di arrivarci e io vi ringrazio a tutti voi per il vostro supporto detto questo spero che l'audio si senta bene e direi di partire sperando che non laghi ovviamente perché se lagga non riusciamo a farlo ok va bene finora va bene ce la facciamo ok poi mi dite se la musica vi piace ma a me non è male si può stare insomma come audio ok vai spero di farcela subito eh ok pensavo di morire eh infatti non mi ricordavo cosa dovevo fare 70% vedi comunque si nota che mi sono allenato ma è per non farvi troppi tentativi stando nei primi punti da fare un po' di più adesso che lagga un pochino perché sto registrando e registrare è un problema con questo genere di giochi prima avevo anche provato a registrare il Clash of Clans perché dovevo farvi un episodio di Clash of Clans ma ovviamente eh il telefono ha deciso che non mi riesce a registrarlo proprio non ci riesce vabbè ve lo farò con l'altro telefono e anzi ve lo avrò fatto perché quello devo uscire prima un episodio e devo progredire nel gioco ma devo anche farvi vedere a che punto sono ora allora vai vai andiamo avanti ok va un po' a scatti però ci sto riuscendo speriamo ok gira perfetto fatto ma è stato male non male sfida sì lo so eh sì no no aspetta ah difficile ok adesso vi farò vedere la difficoltà difficile e se pensate che la difficoltà normale non fosse fosse una cavolata o fosse semplice o viceversa fosse troppo difficile vedrete la difficile non so nemmeno se il gioco riuscirò a giocarci perché mi lagherà in una maniera incredibile forse però vabbè proviamo faccio vedere cioè è ingiocabile capite che è ingiocabile è ingiocabile così cioè non puoi fare un livello del genere lascia ok guarda quanto va veloce cioè è impensabile 10% cioè è già tanto ero arrivato a 20% off camera però va bene quando stiamo registrando 7-6 minuti e mezzo eh posso registrare ancora qualcosa quindi io direi che vi blocco un attimo la situazione qua e prendo l'altro livello e vi faccio le prove sull'altro poi magari se sarà se non riuscirò a completarlo mi allenerò off camera e ve lo completerò la prossima volta ok ci vediamo fra 1-2 secondi ok ci siamo allora questo livello si chiama festa degli scheletri è a tema Halloween e ho deciso di fare questo perché diciamo questi livelli a tema Halloween e Natale sono separati dai livelli normali e però sono anche a gradutore a grado insomma a stelle anche loro e non voglio fare tutti livelli normali puoi fare tutti Natale tutti Halloween voglio fare un po' di gradurità in modo che alla fine non dobbiamo fare tutta una serie di livelli della stessa tipologia della stessa periodo da alternare un po' insomma cioè questo tutto qua poi poi mi saprete dire voi la vostra opinione questo livello ha una stella quindi è un po' più semplice speriamo di farlo tutto oggi se nel caso come detto prima non ci riusciamo e ve lo vi metterò in cioè ve lo mi alleno in off camera e poi ve lo farò vedere la prossima volta non c'è problema è grigio e nero perché grigio bianco, grigio, nero per che tema Halloween è comunque quello degli scheletri quindi va bene ok va bene più che scheletri ci sono i fantasmi ma va bene però è tema Halloween quindi va bene se avete qualcosa da chiedere chiedete pure io ce l'ho qua per rispondere questo è non mi sono allenato per fare questo livello ve lo ricordo non so come sia non so se sarà facile ok pensavo di morire ho visto cose va bene siamo noi minuti 26 vediamo se riesco a ritornarla speravo di morire perché non è semplicissimo su livello sono talmente tanti ostacoli che anche se è una stella non è facile cioè non lo so però magari ci ritorno ecco se magari non arrivano notifiche proprio mentre sto registrando magari è meglio grazie poi ho tolto la connessione come fanno ad arrivare le notifiche ecco dovevo stare in mezzo io dovevo stare in mezzo come fanno ad arrivare le notifiche se io ho tolto la connessione sarà tutta magia del livello di Halloween se non le cose misteriose ovviamente scherzo ma non era per metterla a sorridere insomma attenzione io preferisco farvi sentire la musica che è nella mia voce perché è più bello quando finisce il livello e prego finisce adesso chi è quella tizie brutte no però dai perché mi metti l'ostacolo in mezzo che quale sorprese ma cosa vuoi con le sorprese dai era la fine è fondato un testo e mi ha bloccato la strada riproviamo è arrivata la fine volevo farvi definire il livello purtroppo ok va bene è molto sega ma va bene non è Grazie a tutti. 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 Ma tu stiamo registrando? Se la facciamo fare un altro tentativo? Dai, però non voglio farvi vedere che non riesco a completare il livello. Grazie a tutti. 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 E noi ci vediamo nel prossimo video. A presto.